E' arrivata una nota, ha preso contatti con la famiglia del ragazzo scomparso in Colombia, ci puoi dire qualcosa in più? Sì, stamattina ho avuto una lunga conversazione telefonica con la signora Anna, la mamma di Mario Paciola, a cui va la solidarietà, le condoglianze, la vicinanza e l'abbraccio mio personale di tutta la città di Napoli. Un ragazzo orgoglio di Napoli, sempre impegnato per le libertà, in favore degli oppressi, per la fratellanza e per la giustizia. Domani ci incontreremo con la signora e mi sono personalmente impegnato a fare in modo che si conosca fino in fondo la storia di questo ragazzo e soprattutto verità e giustizia su quello che è accaduto e che non passi sotto silenzio o che non si chiuda il caso con un'apparente ricostruzione di comodo. In giornata chiamerò anche il ministro degli esteri, a cui chiederò il massimo impegno del governo italiano su questa vicenda. Stamattina mi hanno anche contattato degli operatori della città che conoscevano molto bene Mario, chiedendomi se volessi dare la disponibilità a mettere uno striscione sul Palazzo San Giacomo. Ovviamente ho detto appena siete pronti, portatevano, che lo metteremo. Quindi Napoli non farà carare il silenzio su questa storia che ha attraversato la vita con una fine così tragica di un ragazzo che rappresenta l'orgoglio della migliore gioventù della nostra città.